carissimi carissime ciao ben ritrovati ho in mano il quadretto abbiamo fatto fare questo quadretto perché riproduce i vari dipinti che stiamo commentando può essere interessante da tenere in casa perché io penso che sempre di più abbiamo bisogno di avere qualcosa di concreto che ci ricorda le cose altrimenti le idee uno le sente e poi se ne vanno e quindi lo metto lo metto qui eccolo lì e poi lo appenderò ma è un invito a chi lo desidera di appendere un quadro così ci sentiamo in cammino insieme sapete questa è un'altra dimensione molto bella di sentirci in cammino insieme ed è bellissimo quando magari vai in una casa e vedi il dipinto di ma anche voi bello e questo è uno degli aspetti del sentirci complici io penso che in questa nostra società molto pluriforme molto plurale abbiamo bisogno di avere qualche cosa non solo dei dei quadri ci mancherebbe ma un insieme di cose che ci fa sentire parte di una comunità che non siamo canici olti in mezzo a questa varietà a volte anche molto confusa e quindi chi di voi lo vuole può appendere questo quadro in questa modalità che è anche simpatica ce l'ho anche qui a sinistra quindi oggi siamo protetti da questi dipinti bene allora veniamo al terzo dei nostri dipinti vi ricordate abbiamo fatto il primo che ci diceva l'incontro il secondo che ci diceva cosa avveniva dentro il cuore dentro il la mente dentro il cervello di quei due e adesso siamo al terzo guardatelo questo terzo è molto interessante perché il pittore ha avuto una genialata potremmo dire e cioè ci ha dipinti dentro il quadro uno dice ma dove siamo e siamo in casa vedete che se voi guardate bene il dipinto noi siamo in casa noi che siamo gli spettatori siamo dentro vedete c'è la scena là fuori che poi descriviamo dove ci sono i due discepoli e questa figura di sconosciuto e noi stiamo guardando il quadro da dentro di qua ma di qua c'è la casa vedete è interessante questa cosa e c'è una casa molto normale potrebbe essere casa nostra con quel tipo di piastrelle con quel tavolo molto semplice della frutta e dunque potrebbe essere tranquillamente casa in ogni caso il pittore ha avuto la genialata di spostarci metterci dentro il quadro non siamo solo spettatori siamo dentro e siamo in casa siamo in casa nostra e c'è una scena che sta avvenendo proprio adesso bellissimo la genialata qual è il pittore dice non stiamo ascoltando una storia di qualcuno stiamo dentro una storia che ci riguarda perché è sempre così il vangelo ma in particolare come dicevamo la prima volta soprattutto quando si parla di del risorto dell'apparizione del risorto che ci raccontano quel che avviene adesso e in questo caso adesso in casa mia in casa tua in casa nostra e che cosa avviene andiamo a guardare innanzitutto è sera e sera uno dice come fai a saperlo che sera e sera perché vedete sotto il braccio dello sconosciuto c'è il sole che sta tramontando filtra la luce del del sole al tramonto vedete c'è proprio il sole che sta tramontando dunque da lì capiamo che è sera allora siamo in casa ed è sera forse stiamo già cenando abbiamo già cenato e sera è interessante possiamo immaginarci cos'è la sera a casa tua e la sera a casa tua innanzitutto sovente è chiudiamo la porta per oggi va bene così e c'è un momento un attimo di tranquillità dopo mille vorticose vicende chiudiamo un attimo la porta un attimo noi un momento di anche di intimità o comunque un momento di calma di fermiamo un attimo tutto il momento dici o finalmente adesso penso un po a me o a noi ci siamo in casa in famiglia ecco quel momento lì dove tante volte non hai più voglia che suoni il campanello dici va bene così se suona il campanello ci fa anche un po arrabbiare il momento siamo tranquilli è il momento dove fai delle cose magari che non hai potuto fare durante la giornata dove sistemi qualcosa o ti leggi un libro guardi un momento la televisione momento di tranquillità non hai voglia che qualcuno suoni il campanello per fuori stasera almeno sono stanco ed è anche quel momento in cui sembra che la giornata ciò che hai fatto è fatto magari sei grato perché ciò che hai fatto è fatto ho fatto tanto è stata una buona giornata oppure ho sbagliato fatto una stupidaggine sia stato un contrattempo però ormai è andata e quel momento in cui dici bom adesso ancora un attimo mi riposo un attimo dopodiché vado a letto e ecco dove riconosci che sei tanto perché certi giorni dici ma mia quante cose ho fatto e se anche solo così anche oggi ho sbagliato qualcosa sono tanto e ho sbagliato chiudiamo la porta e domani si vedrà è interessante ma sulla soglia sta avvenendo qualcosa sulla soglia è quel quello spazio che è ancora a casa tua ma è anche già fuori è proprio quello spazio di passaggio dove si decide tu sulla soglia passi quando decidi di uscire e sulla soglia passi quando decidi di entrare e la soglia è quel momento dove si decide di uscire di entrare quindi non è solo la questione di uscire entrare ma è di andare fare lavorare scegliere comprare vendere e la soglia è quello spazio che tu percorri per affrontare la vita o che chiudi per dire beh un attimo di spazio e sulla soglia cosa cosa succede c'è la porta aperta e sulla soglia vedete sulla soglia è chiaro ci sono i due discepoli e c'è quell'ombra ma interessante vedete quel quell'ombra quello quella figura lì al bastone e sta facendo sta quasi per entrare in casa tua non entra ma è lì per dire quasi che entrerei se mi facessi entra è interessantissimo vedete in quella posizione che non non entra se non lo fai entrare però è lì che dice beh e quindi c'è questo momento in cui c'è un'ombra e tu sei lì che dici beh lo faccio entrare o no abbiamo detto prima me ne starei anche tranquillo faccio entrare o no e quindi c'è questo ombra ancora più ombra di prima non si vede perché ho più un'ombra per cui un'ombra così sembra una roba inutile appunto quasi paurosa dici ma non so se farlo entrare quasi quasi chiudo la porta nel son più tranquillo in casa mia o le mie cose quasi che mi disturba un'ombra così interessante ogni tanto noi su dio abbiamo questa idea ma dio così evanescente che son più tranquillo nelle mie cose poggio più sulle cose mie che non su dio perché è un'ombra che non sai mai se poi c'è non c'è se si dà da fare non si davvero interessante molto interessante anzi addirittura fa quasi paura perché certe volte dio ma ma e cosa succede però cosa fanno gli altri due vedete non so se ho spiegato la scena molto interessante siamo lì sul tu che fai lo fai entrare si sta parlando a te il dipinto parla a te lo facciamo entrare lo lasciamo fuori vorrei starmene tranquillo dio se entra nella vita poi è quasi fastidioso lasciamolo fuori quei due invece lo stanno guardando con gli occhi aperti vi ricordate che avevano gli occhi chiusi adesso hanno aperto gli occhi perché dopo 11 chilometri hanno iniziato intuire che quel tale forse mamma mia potrebbe essere il tipo giusto da 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 avere fianco e il fondo è dorato e cioè per loro quella presenza era diventata qualcosa di molto 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 prezioso molto prezioso noi non sappiamo però per loro è diventato molto prezioso e quindi questo fondo totalmente dorato il loro sguardo con gli occhi così aperti ci stanno dicendo non fartelo scappare non fartelo scappare dai bellissimo non fartelo scappare e noi siamo di dentro abbiamo tutta questa scena l'ombra non fartelo scappare cosa facciamo è interessante e c'è una piccola aggiunta sotto il braccio l'abbiamo detto c'è il sole che tramonta ma se vedete è molto rosso e vistosamente rossa quella luce perché sapete lì c'è il fianco squarciato da lì è uscito sangue da quella persona noi non sappiamo ancora bene chi è ma il pittore ci dice guarda che da quel fianco lì è uscito del sangue per te e cioè noi lo sappiamo noi che quel tale lì che noi non riconosciamo ancora ma in realtà è Gesù di Nazareth quel che è morto in croce per te per dirti io faccio pazzie per te mi vuoi adesso sta dicendo mi vuoi io ho fatto pazzie per te sono morto ho stabilito un'alleanza col sangue per dire io non ti mollerò mai ti fidi mi fai entrare è bellissimo e perché sapete di amore c'è bisogno per vivere di amore c'è bisogno per vivere di cosa c'è bisogno per vivere questa è sempre una bella domanda di cosa abbiamo bisogno per vivere noi siamo in casa la giornata più o meno andata possiamo chiudere ma cos'è che è importante nella tua giornata quando è che tu alla sera puoi dire vabbè è stata una buona giornata quando sono andate bene le cose giusto se ti van bene le cose va bene il lavoro se va bene il rapporto con gli altri se ti van bene le cose se sono stato in salute dici beh è stata una buona giornata in giro c'è un sacco di influenza io sto bene meno male oppure avevo avuto un po di problemi adesso risolto meno male un po di salute ecco potremmo fare un lungo elenco di cos'è che c'è bisogno per vivere di una casa sono in casa e beh certo una casa un tetto qualcosa da mangiare mamma mia ma di cos'è che c'è bisogno per vivere sapete nel vangelo a un certo punto glielo chiedono dico ma qual è la cosa importante chiedono a gesù sapete cosa ha riposto gesù importante cos'è davvero importante ama dio ama il prossimo interessante che non vuol dire immediatamente ti aggiungo due comandi ai vari comandi no che vuol dire ama dio cioè apri gli occhi e renditi conto di quanto sei amato se ti rendi conto di quanto sei amato da dio vabbè questo è va diventa una forza eh dici io amato così cioè io valgo così tanto per dio che che lui fa pazzia per me sì vabbè allora si può vivere interessante il secondo ama il prossimo cioè condividi questo amore che ti è dato ti è dato un amore incredibile noi diciamo addirittura ci è dato lo spirito d'amore per vivere e condividilo condividilo ma il prossimo non è innanzitutto un comando innanzitutto una condivisione di qualcosa che ti è dato è quasi una restituzione e sapete se qualcuno ti regala un quintale di cioccolatini se qualcuno ti regalasse un quintale di cioccolatini puoi mangiarli tutti certo se ti ha regalati credo che staresti male faresti indigestione oppure puoi tenerli lì dici ogni tanto le mangio uno prima che tu li abbia finiti si sono avvariati beh così è per l'amore di dio l'amore di dio vale più di un quintale di cioccolatini ma se lo tieni tutto lì alla fine che serve se lo condividi beh quello continua a rinnovare te e gli altri è bellissimo questa cosa fallo entrare cioè apri gli occhi renditi conto di chi è dio per te e quella sua presenza riuscirà a sostenere la tua vita e a rigenerarla perché tu sia anche capace di sostenere e rigenerare la vita in altri buon cammino